Salve a tutti carissimi, qui è Dario ed eccoci qua tornando in questo nuovo video. Siamo tornati ragazzi oggi a parlare di Luxury. Ho due grandi notizie da darvi, ma prima di iniziare, come al solito, perché a me non piace parlare, ma piace più mostrare risultati, abbiamo il nostro MyForexBook lindo e pinto che parla per noi e lo andiamo a vedere. Quindi piccolo aggiornamento dopo lo scorso video che sono passato su per giù oramai tre settimane, il nostro gain è salito, il nostro guadagno è salito dal 39,50% ad un 43,58%. Il drawdown ragazzi, come al solito, è rimasto il classico, 7,31%, perché come vedete qui drawdown non ce ne sono stati, non ci sono stati drawdown importanti. Se non sbaglio, in alcune operazioni si è raggiunto l'1% massimo di drawdown, forse il 2%, qualcosa di ridicolo che nemmeno si nota. Per poi, ovviamente, recuperare il drawdown senza problemi. Stanno entrando un po' di persone, le persone rimangono entusiaste del nostro bot. Ricordo a tutti quanti, ragazzi, che per chi volesse provare il bot, noi diamo 15 giorni in comodato d'uso completamente gratuiti per provare il bot con le vostre mani. Quindi vi ricordo, ragazzi, che qui sotto trovate il mio Instagram e Telegram per contattarmi e chiedermi o di provare il bot oppure di cominciare direttamente. Quindi comunque, tornando al nostro MyForexBook, non c'è tanto di cui discutere se non di una cosa importantissima. E mi sono dimenticato di dirvi l'ultima volta. Il bot, vi ricordo, che è completamente personalizzabile, ok? Ha dei settaggi che si possono modificare. E questi settaggi, ovviamente, sta un attimino al cliente decidere come impostare. Senza parlare nel mio caso, che da quando sono entrato non ho visto drawdown più alti del 2%, ma veramente, ragazzi, qualcosa di scandaloso, vi parlo sempre con statistiche scritte nere su bianco. Abbiamo il nostro MyForexBook, come dico, che praticamente è il curriculum del bot. E senza pensare male, questo si sta inventando le cose e cose del genere, vi parlo semplicemente leggendovi quello che vediamo scritto su questo sito. Sono sempre comunque dimenticato di dirvi che il bot, come dicevo ora, è completamente personalizzabile, ok? Quindi se una persona un mese vuole provare a guadagnare di più, lo può fare senza problemi. Se vuole provare a guadagnare di meno, lo può fare senza problemi. Noi, come vedete qui, facciamo una media mensile del 4,40%, ok? In paga parole, come ha settato su per giù il bot? Per far funzionare bene il bot deve essere utilizzato un lottaggio, ok? Un lottaggio, spero che qualcuno di voi comunque mastighi un po' il trading e capisca quello di cui sto parlando. Un lottaggio che va di 0,01 lotti ogni 1000€ di deposito, ok? Quindi il minimo, diciamo, per far funzionare bene il bot sarebbe depositare 1000€ e utilizzare un lotto di 0,01, ok? Ma se una persona vuole entrare sempre con 1000€, ma raddoppiare, se non addirittura triplicare, quintuplicare tutto quello che volete, il rischio, ok? Ma ovviamente, come ben sappiamo, aumentando il rischio aumenta anche il guadagno. Se io in questo caso avressi triplicato, ok? Da agosto, se io avessi triplicato, io non avrei fatto il 4,40% mensile, ma avrei fatto su per giù il 13-13,5% mensile con un drawdown, quindi con un rischio del capitale che si aggirava intorno al 7-8-21, mettiamo ad un 25%, un 25% massimo di drawdown da agosto, che ci sono bot in giro che hanno un drawdown del 30%, che fanno un guadagno mensile del 6-7%, ok? Questo, ovviamente, è una cosa che aspetta al cliente, ok? È una cosa che potete personalizzare tranquillamente. In ogni momento, volete fare una settimana più rischiosa? Provi a fare una settimana più rischiosa. Puoi fare una settimana ancora più conservativa del normale? La fai senza problemi. Questa è una cosa che spetta a chiunque di noi e che possono modificare tutti coloro che hanno il bot. Questa è una cosa molto importante che però mi sono sempre dimenticato di dirvi. Io, nel mio caso, nel mio bot, non ho utilizzato le impostazioni base, ma sono andato leggermente più in rischio. Con il mio deposito da 3K avrei dovuto utilizzare 0,03 di lottaggio, ma ho utilizzato 0,04, ok? Quindi aumentando di un 30%, un pochettino di più, il rischio, cosa, come vi dicevo, cosa sta a significare questo? Che aumentando, ovviamente, il lottaggio dei pips, aumenta anche la percentuale di rischio del bot, ok? Perché aumentando il lottaggio va aumentata anche la percentuale di rischio di tutto il capitale. È tutta una cosa proporzionale tra lottaggio e il rischio del capitale, ok? Se viene aumentato il lottaggio, deve essere aumentato anche il rischio del capitale per far funzionare bene il bot. Altrimenti uno comincia a smanettare le cose del bot, fa quello che vuole, però in quel caso, quello che succede, sinceramente, non lo sappiamo, non ne abbiamo idea. Perché le strategie sono state impostate in questa maniera qua e il bot segue questa tipologia di strategie, ok? Quindi, terminando il fattore del MyForexBook, che come vi dicevo, come vi dico sempre, parla da solo, parla veramente da solo, vi lancio queste due notizie bomba e state bene ad ascoltare perché sono due notizie veramente fantastiche. La prima, lunedì 24 aprile, ore 21 e 30, ci sarà una zoom di spiegazione del bot a tutti coloro che vogliono saperne un po' di più, ma soprattutto si potrà sentire anche la valutazione di chi ha già il bot, ok? Tutte quelle persone che già hanno il bot e vogliono esprimere le loro opinioni come fossero una specie di recensioni, va bene? Ed è sempre ottimo comunque sentire la voce del popolo, tra virgolette, piuttosto di persone che comunque sono dietro l'azienda, ok? Seconda bomba, seconda bomba ragazzi, per tutti coloro che saranno presenti alla zoom di lunedì 24 aprile, tra tutti coloro che, tra tutti quanti i partecipanti, quindi chi ha già il bot, chi ancora non è nel bot e chiunque esso sia, tra tutti quanti i partecipanti verrà estratto un nome che vincerà per 6 mesi il bot in maniera completamente gratuita. E ripeto, completamente gratuita. Quant'è il prezzo del bot per 6 mesi? 400 euro ragazzi, vengono regalati 400 euro. Quindi non vi fate scappare questa grandissima occasione ragazzi, anche per capire meglio di cosa si tratta, di cosa tratta il bot e come viene utilizzato, come sono i settaggi da modificare, tutte queste cose così. Se avete delle domande, entrate e fatele, non ci sono problemi e qui nessuno nasconde niente ragazzi. Come vi dico dall'inizio, noi facciamo parlare i risultati e facciamo parlare i clienti. Basta, basta, i risultati parlano per noi ragazzi. Fino ad ora il bot ha lavorato e è una meraviglia. Quindi ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su Luxury e su tutte le altre piattaforme o aziende che portiamo sul canale. Per partecipare alla Zoom ragazzi ricordatevi di iscrivermi personalmente sul mio profilo Instagram o sul mio profilo di Telegram. Tanto trovate tutti quanti i social qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ci vediamo lunedì 24 aprile ore 21.30 per la Zoom di Luxury. Un bacione a tutti e alla prossima.